Si costruisce una città a misura di bambino ascoltando i bambini, dandogli spazio, dandogli voce e facendoci raccontare da loro che cosa vorrebbero realizzare. Quindi cambiando un po' prospettiva, mettendoci noi in ascolto e facendoci proprio rappresentare la loro idea di città. In occasione della giornata mondiale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, il Comune di Napoli propone il progetto Napoli a misura di bambino. Nell'infanzia di oggi c'è la città di domani e per illustrare le attività dedicate all'infanzia e all'adolescenza presenti in tutte le municipalità, oggi al Cinema Modernissimo i ragazzi dei laboratori di educativa territoriale hanno portato i video realizzati da loro stessi. Tutte le educative territoriali della città, che sono 26, quindi davvero tante, che rappresentano un po' tutti i territori cittadini, raccontano, ci dicono, ci chiedono in qualche maniera che vengano rispettati e che vengano valorizzati i loro diritti. È un'occasione speciale perché loro si sentono anche al centro, non solo dell'attenzione, ma anche importanti perché veramente ascoltati e rappresentati attraverso le loro parole e i loro video.